Buongiorno a tutti, oggi è giornata relax e volevo però presentarvi comunque un alimento particolare che non è proprio un alimento ma è un'adulcorante, ossia un dolcificante che può essere sostituito al normale saccarosio con la caratteristica di essere con caloria zero. Questo si chiama eritritolo, l'eritritolo è un edulcorante che il nome fa un po' impressione, a me la prima volta che l'ho sentito ho detto mamma mia che nome, sembra quasi un componente di una bomba, ma a parte questo è un buonissimo sostituto dello zucchero perché innanzitutto ha calorie zero quindi non mi crea sbalzi glicemici e oltretutto ha un potere dolcificante però inferiore allo zucchero, quindi se per 100 grammi di zucchero noi dovremmo mettere 120-130 di eritritolo. Questo è un dolcificante che appunto non preferisco rispetto alla stevia o ad altri tipi di dolcificanti, prima per il potere calorico che non ce l'ha e quindi adesso con abuso di dolci che ho fatto anch'io ultimamente meglio un po' tornare in rega e oltretutto tanti dolci senza caloria a livello di zuccheri inseriti, perché le calorie ci sono comunque sempre negli ingredienti che compongono un dolce o qualsiasi altro alimento composto diciamo, mettono la stevia, però a me onestamente anche se la liquirizia mi piace non mi piace il sapore della stevia nel dolce, quindi non ho dovuto trovare un'alternativa sana però che mi desse anche un sapore come piaceva a me. Quindi ho trovato appunto questo eritritolo. L'eritritolo può essere utilizzato sia a cotto diciamo così quindi nei dolci o anche a freddo quindi per dolcificare per esempio il caffè. Io col caffè d'orzo che sto bevendo adesso utilizzo ad esempio un cucchiaino e devo dire che il risultato è pari al sapore che ha con lo zucchero. Quindi questo è un video fatto per far conoscere alternative di origine vegetale perché questo eritritolo sia ottenuto con procedimenti chimici come poi tutto il resto dei nostri dolcificanti per esempio del zucchero di canna, però è dato da una fermentazione degli zuccheri, dei vegetali e della frutta quindi non ha origini come il sucralosio che è un po' in dubbio sul fatto che possa creare dei problemi. Questo è un dubbio. È caloria zero però io preferisco sempre scegliere ciò che deriva dalla natura. Ho fatto un dolce prima, vediamo come viene. Ho fatto una torta di mele senza glutine, senza derivati del latte, senza appunto zucchero perché ho messo l'eritritolo e anche senza oli. Speriamo venga bene e se viene bene vi posto anche il video. Bisogna anche avere un po' le vedute ampie sugli utilizzi che possiamo avere degli zuccheri perché è anche avere e informarsi in quanto certi zuccheri possono veramente portare problemi alla salute. Quindi adesso ve lo presento e poi vi saluto. Ecco l'eritritolo che apparentemente è proprio uguale allo zucchero. Ha un sapore molto delicato simile un po' allo zucchero però appunto come vi dicevo prima con le caratteristiche di essere a caloria zero. Quindi provatelo e scegliete possibilmente uno di buona qualità quindi anche possibilmente biologico per essere sicuri della provenienza dei vegetali e della frutta da cui appunto viene ricavato. Vi saluto e fatemi sapere se anche voi iniziate ad utilizzarlo. Ciao a tutti!